Ciao ragazzi, immaginate questa scena, state per scendere giù, avete preparato il caffè ma vi manca un po' di zucchero e state per scendere giù, dovete andare a comprare un po' di zucchero nel mini market sotto casa, scendete voi oppure avete mandato vostro figlio o vostra sorella, vostro padre, vostro nonno, andate giù, state per attraversare la strada sulle strisce pedonali, a un certo punto si sente una frenata, una frenata in lontananza e magari lui o lei si stava mandando un messaggino, magari stava leggendo un messaggino, magari stava cercando di rispondere al telefono o chissà, magari stava accendendo la sigaretta, stava facendo l'ultimo tiro della sua amata sigaretta e proprio in quel preciso istante vi ritrovate per aria, oppure il vostro figlio che è per aria, per la disattenzione di una persona che stava alla guida, stava pensando ad usare il suo smartphone, perché forse era più importante mandare un messaggino a quel tizio o a quell'amico o fare quella chiamata invece di guardare avanti, mentre si sta alla guida di un'auto raga, fate molta attenzione, immaginate che potreste essere voi in quel preciso istante davanti alla macchina, o vostro figlio, vostra nonno, vostra sorella, quindi pensateci più di una volta prima di fare determinati gesti in macchina, e voi che magari siete scesi per andare a prendere un po' di zucchero o vostro figlio che avete mandato a prendere un po' di zucchero, magari non ritornerà mai più o non ritornerete mai più a casa, per colpa di... per colpa di chi l'ha? Per colpa di chi? Raga, condividete questo video ai vostri amici che molto spesso li vedete che stanno con lo smartphone mentre guidano, oppure fumano alla guida o fanno altre cose assurde alla guida, fateglielo vedere per rivedere più di una volta